Volevo presentarvi oggi il mio progetto, ma soprattutto ecco anche di seguirmi un po' ovunque e se vuoi anche collaborare con me per un articolo, per un contenuto, per qualsiasi cosa puoi contattarmi sempre nella mail che trovi in aziendale. Quindi abbiamo un'enorme offerta di possibilità di formazione, ero solo educatrice, quindi ho voluto un po' condividere tutto ciò che ruota intorno a questa figura. La Laura Magistrale, quindi sono anche pedagogista, ho lavorato nel mondo dell'esperienza in questo senso e ho fatto anche un'esperienza all'estero di Erasmus durante il mio percorso di studi nella Laura Magistrale in Germania in un servizio 06, quindi ho fatto educativo, percorso di vita, un like perché l'algoritmo comunque lo necessita.